Benvenuti nel nostro Click & Carry. Vi spiegheremo come diventare affiliati del sito e guadagnare le provvigioni vendendo la nostra farina Petra. La prima cosa da fare per potersi registrare è inserire lo username. Naturalmente il vostro, io sto inserendo il mio, è la password collegata che avete scelto nel momento in cui vi siete registrati nel nostro sito. Cliccate poi sul tasto accedi. Una volta avuto l'accesso fate ancora click sul nome del vostro user e vi troverete all'interno dell'area riservata nella quale gestire il vostro profilo. In particolare troverete un nuovo tassello che si chiama centro affiliazione all'interno del quale troverete diverse sezioni. La prima sezione dashboard è quella dove è possibile prelevare una stringa di codice HTML che, se collegata come link a qualsiasi parola del vostro sito o del vostro blog, fa sì che attraverso il click si possa entrare all'interno del Click & Carry e, una volta fatto l'acquisto, far agganciare le provvigioni al vostro nome. La stessa cosa può essere fatta prelevando il codice HTML al quale corrisponde il banner che trovate raffigurato qui sotto. Come vedete abbiamo previsto diverse dimensioni di banner. A ogni banner corrisponde il suo codice HTML. Se avrete bisogno di altre dimensioni fatecelo sapere scrivendo all'indirizzo info chiocciola farinearte.it. Il secondo tassello provvigioni permetterà di leggere le provvigioni in tempo reale man mano che maturano le vendite. Nel conteggio invece dei click unici avrete giorno per giorno una serie di indicazioni su quante persone sono entrate nel nostro Click & Carry dai vostri link. A questo punto, per poter rendere massime le vendite, il suggerimento è quello di inserire oltre al banner anche una serie di link all'interno di parole che possano rimandare al nostro Click & Carry. Per esempio, se pubblicherete una ricetta nella quale compare la farina Petra o un qualsiasi oggetto venduto nel Click & Carry, trasformate la parola Petra o la parola riferita a quell'oggetto in un link e il link dovrà essere inserito copiando il testo che trovate nella vostra dashboard. Grazie per l'attenzione e buone vendite!